Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video allegro, celebrativo, oggi dobbiamo festeggiare perché è successa una cosa fantastica quella a cui ambiscono ogni youtuber, ogni gamer nella propria vita che sono così felici come un bambino che quando apre tutte le carte dei pokemon alla fine trova Charizard si, poi però c'è anche quel bambino che ha tutte le carte dei pokemon tranne proprio Charizard e quindi se la costruisce e se la fa da sé questo ovviamente è tratto da una storia vera firmata a Soundless ma volete sapere cos'è arrivato nelle nostre vite? lei, la fibra! e quindi oggi gli diamo il benvenuto come ben saprete noi non siamo persone normali e anche il semplice passaggio da ATSL a fibra è stato alquanto singolare da ricordare anche la prima fase non è filata liscia ovvero il collegamento del modem caccoso discali technicolor al computer alla linea e via, apri il browser non va no, aspettai di tempo Ale, la fibra è più veloce della DSL non va no, è venuto al triangolino eh, riavvialo, riavvialo dai, ora va, ora va ma cosa scrivi Google? devi scrivere ciao, la prima prova è sempre ciao bravo non va altri triangolino, se ne andava un po' più di controllo i collegamenti proprio morto, guarda addirittura sapete perché non andava? beh, noi pensavamo di avere la nuvola di fantozzi sulla testa la nostra solita sfiga e invece no dovevamo ricevere un sms da parte di Tiscali ecco, quella è stata l'attesa più lunga della nostra vita Ale Ale eh ho sentito il messaggio di una torre notifica no, non credo, sto giocando poi guarda Eric, è mia madre ma come è tua madre? non mi vuoi illudere così Eric, vatti asciugare tutta questa attesa e tutta questa tensione per immortalare nelle nostre menti il momento in cui avremmo navigato con la fibra sapete com'è andata? così come se proprio non ce ne fossimo neanche accorti che si fa tutto il giorno in casa senza internet? ma non lo so dai, qualcosa si trova da fare poi magari tra una ce la mettono pure dai guarda, manco hanno aggiunto i premi per switch su my nintendo ma te che ne sai, scusa? guarda, nulla, nulla, neanche uno Eric Eric ma tu stai navigando oh, non funziona funziona che deficiente ma da mentre che navighi su un minuto che deficiente se dobbiamo essere sinceri la nostra vita è cambiata tantissimo con l'arrivo della fibra si, qualcuno di voi penserà madonna che sfigati vivono nell'attesa di questa beh, dovete sapere che sono cambiate tantissime cose a partire dallo speed test il quale non abbiamo resistito a farlo e l'abbiamo fatto all'istante cioè, ma io veramente pago per sto schifo e basta no, vabbè, qua ci vuole una foto e la mandiamo a tutti quelli che non hanno la fibra così li facciamo rosiccare per bene iniziamo da Terminator Tenent ma sapete in cosa di più la fibra ha lasciato il suo segno? nell'upload dei video su youtube cioè siamo passati da metterci 4 ore a 15 minuti cioè ci siamo guardati e abbiamo detto ok, adesso anche noi possiamo essere delle persone normali e avere 24 ore in una giornata bene, praticamente adesso ho 4 ore da tirar via cosa posso fare? la maratona di Harry Potter potrebbe essere un'idea però mi sa che vada a vedere sul ponte insieme a vecchietti l'operai lavorare praticamente ho il tempo giusto di fare una cosa in bagno vai a fare la cacca? noi ragazze non facciamo la cacca ognuno nei momenti di piena euforia fa qualche cavolata ecco, noi l'abbiamo fatta la mattina successiva e abbiamo pensato di festeggiare quel giorno come se fosse il giorno della fibra anche durante le sessioni di gioco devo dire che abbiamo goduto nell'avere la fibra avevamo un po' il complesso dei The God sembrava quasi di avere un cheat anche se non avevamo un cheat la provagine ciao, ciao tesoro casca un attimo in terra ok adesso vengo a darti un boccino sulla bua proprio che capisci fa quello? mamma mia ho fatto l'ercio d'acciale e non è morto la fibra ti risparmia pure i compagni ciao, ecco, ciao prossima volta guardami ancora più intensamente non lo so ci scambiamo il numero di telefono nel mentre grazie fibra, grazie però mi fai fare queste chi? cioè io li vedo veramente prima così e questo è un cheat e come ogni bella storia che si rispetti tutto è destinato a finire e in questo caso è finita molto molto male perché abbiamo scoperto che il modem caccocoloso Technicolor di Tiscali ci segna nato ristretto e non possiamo quindi giocare a metà dei nostri giochi online abbiamo provato varie cose tra cui mettere un router in cascata ma niente è andata a buon fine a questo punto ci rivolgiamo a voi aiutateci a trovare una soluzione come avete visto questo era un video di quasi totale cazzeggio ma vi volevamo fare vedere i sentimenti le emozioni, le gioie di due persone che aspettano la fibra dal 3000 credici inoltre volevamo comunicarvi l'arrivo delle live sul canale sì perché era una cosa che volevamo fare da tanto tanto tempo ma non le abbiamo fatte perché avreste visto soltanto un megapixel grosso come un condominio con la nostra velocità di upload e quindi noi pensavamo di fare una live a settimana avevamo pensato di farla venerdì verso le 6 del pomeriggio fateci sapere quindi se come orario e come giorno vi torna oppure quale giorno e orario preferireste vogliamo che lo scrivete qua sotto nei commenti e quanti gatti ci vedrebbero noi abbiamo scommesso 5 spettatori se siete di più non so vi faremo un regalo inoltre fateci sapere ovviamente cosa volete vedere nelle live noi pensavamo un po' di giocare un po' di fare delle live con argomenti e quindi parlare di qualcosa e ovviamente non faremo live di sole cazzate perché quelle ci sono sempre in ogni dove esatto quindi con questo video noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video scrivete qua sotto nei commenti ovviamente se qualcuno di voi ha un doppione della carta di Charizard della prima serie ce lo scrive qua sotto nei commenti noi vi diamo il nostro indirizzo e lo spedite ad Eric così fate felice un altro bambino e lo scrive qua sotto